Ciao a tutti sono SirQuiver e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft oggi voglio farvi vedere quali sono gli incantesimi della balestra oltre a quelli soliti abbiamo questi tre qua che sono carica rapida, tiro multiplo e perforazione proviamo a vedere il prossimo che è carica rapida adesso vi faccio vedere che mi sono dimenticato di prendermi le frecce prendiamo quelle normali carica rapida, intanto vi faccio vedere la differenza quella solita è così, una velocità quella carica rapida è così, molto più veloce mentre il secondo incantesimo nella balestra è tiro multiplo che come si può intuire dal nome il tiro normale tira una sola freccia mentre tiro multiplo ne tira direttamente tre come potete vedere se si mettono bene ne prendiamo tre di creeper vabbè l'altra vedete è arrivata qua gli altri due li uccisi mentre il terzo incantesimo è perforazione che non si può sommare a tiro multiplo mi pare e praticamente questo incantesimo fa andare la freccia da là dietro il creeper adesso vedete come potete vedere non so se si è visto ho preso anche il creeper dietro guardate adesso se riesco a farvi vedere avete visto ho ucciso quello dietro anche spero che questo video vi sia piaciuto lasciate mi piace iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video ciao ciao ciao